Voi due siete proprio innamorati, eh? Zachary, ci amiamo. Wow! Io, oddio, ho sempre voglia di mangiarlo. Lasciane un po' a me, eh, eh, eh. Non riesco a non mangiarlo, mi dispiace. Ok, ti si fa troppi cornopoliti. Ah, ma anche a lui piace mangiare a letto, eh. Non so se mi spiego, a letto è fuori dal letto. Ok, può bastare. Tutu, senti, hai bevuto troppo e lo fai sempre. Bevi con tutti quelli che incontri e non riesci a contenerti. Oh, mi dispiace. E con il verbo contenere, tu intendi tipo contenermi in un armadio? Nell'armadio del diniego? No. E questo? No, no, no. Porca, fanno sul serio. No, ma è per questo che non ti ho mai presentato a mia madre. Perché non sai mettere a loro agio le persone. Amore? Forzi la tua presenza ogni volta. Amore, ho pensato che magari, magari per un secondo in questa sperduta città potevo essere me stesso. Allora scusami tanto. No, hai ragione. Dovrei fare il vero macio e fingere che non mi piaccia da morire quando mi ficchi l'uccello tutto in bocca. È la serata più bella di tutta la mia vita. Sto dando spettacolo perché posso fare molto di me. Decisamente. Mi dispiace. Pittsburgh, statemi a sentire, per favore. Mi chiamo, mi chiamo Brandon St. Randy e io amo Bobby Long. Sì, cazzo. Ti basta? Va bene come scenata, eh? Perché posso fare molto peggio di così. E il motivo per cui non mi hai portato da tua madre, tua madre col suo trucco, le sue sbronze, è che, è che anche lei è nell'armadio. Litigano come le persone normali. Volevo essere una guida per te. Volevo essere una guida per te.